When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone, you're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair, you're gonna miss me everywhere, you're gonna miss me when I'm gone. Non posso essere in doccia invece? Le ragazze sono fantastiche. La mia bella preferita è Bekaa, perché la mia estrice preferita è Anna Kendrick nel mondo, quindi... CicciaEmy. Che non si arrende mai e non si vergogna di quello che è, di quello che pesa. Ogni bella deve inaugurare la casa scivolando giù per le scale. Non c'è problema. Le Ostese Sarà sicuramente un film che piacerà tantissimo ai teenager, c'è proprio uno spirito universitario molto forte che Le canzoni sono bellissime. Le musiche, le canzoni sono tutto quanto molto convergente. I campionati mondiali di canto a cappella dove ogni quattro anni i migliori da tutto il globo si sfidano per il titolo mondiale. Sono sicuramente tutti quanti molto bravi e quindi lo consiglio di vedere a tutti quanti. Comunque erano delle adolescenti con delle passioni come quella della musica. Chiunque vedrà questo film non potrà fare a meno di canti chiari. I got my ticket for a long way round when I'm gone, when I'm gone. No, no, quello lo lasciamo alla doccia. Two bottle whiskey for the way. No. Sì, sì. Io faccio la cantante, se volete.